La società siamo noi, con l'avvento dello Stato Costituzionale la cosa più importante che è avvenuta non è la Carta Costituzionale ma la Banca Centrale, perché con la Banca Centrale il potere politico è stato spogliato della sovranità monetaria e allora chi ha assunto il comando sostanziale delle nazioni non è stato il Parlamento e il Governo, che è stato fatto sempre di camerieri, dei banchieri come ha dimostrato la storia e come ha evidenziato per primo Ezra Paoni, perché con l'avvento dello Stato Costituzionale siccome la politica ha un costo e i mezzi per fare politica erano dati da chi aveva i mezzi per pagare, cioè chi aveva la stampa della moneta, i padroni del denaro, come giustamente dice la re Romenovaro. E allora noi che cosa abbiamo? Che il politico oggi è costretto, suo malgrado, non perché abbia animo servile, ma perché le regole del gioco non consentono, altrimenti deve subire le direttive della Banca Centrale. La più clamorosa prova di quello che sto dicendo è l'articolo 107 del Trattato di Maastricht, che non consente né ai governatori delle banche centrali né ai governi degli Stati europei di manifestare desideri o di fare segnalazioni o di avere un qualunque contatto, un qualunque dialogo con i vertici della Banca Centrale europea, cioè del sistema monetario che adesso andiamo a inaugurare. Questa è la prova quindi che chi comanda e chi ha la Banca Centrale in pugno.